Siamo a Lupin di Sardana in corso da un'ora e più un incendio ancora con i pompieri all'opera potete vedere i vetri che sono esplosi qua nella parte anteriore del piazzale dell'edificio che ha preso fuoco mentre nella parte retrostante i pompieri stanno proseguendo i tentativi di spegnimento. Al momento non c'è ancora dato da sapere il focolaio dove e perché si è partito qui siamo nel retro degli Lupin e i pompieri sono ancora come potete vedere all'opera. Grazie a tutti.